Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Beto di TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra regione per giovedì 20 giugno, situazione che vedrà la nostra regione sotto cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi per tutto l'arco della giornata. Avremo ancora temperature calde per il periodo sopra la media del periodo, sopra di 2 o 3 gradi della media del periodo, quindi durante le ore centrali della giornata avremo anche una forte sensazione di caldo. Avremo sia le temperature minime che le temperature massime stazionarie con le minime che si attesteranno intorno ai 14-16 gradi, mentre le temperature massime saranno comprese fra i 31-34 gradi con punte sopra i 35 gradi sia nell'area del Ternano ma anche in tutta la Valle Umbra. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.